salve a tutti ragazzi io sono salvatore in questo video vorrei fare il pronostico della partita del napoli giocherà a sabato contro l'atalanta il napoli giocherà all'ora 18 e per me sarà una bellissima partita perché il napoli per me vencerà per ben 3 a 0 farà una bellissima goleata e gli autori di gol saranno quara scelia o simen e politano poi che vincere più a noi ci fa sempre piacere non pensiamo che abbiamo perso quella partita contro la lazio perché è successo non ci pensiamo adesso pensiamo solo dobbiamo solo pensare ad andare avanti e continuare sempre così che il napoli deve sempre vincere comunque adesso io vi saluto aspettiamo con ansia questa bellissima partita se vi è piaciuto il pronostico mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale forza napoli e forza tutti quanti ciao a tutti ciao